Buonasera a tutti, allora il 19 siamo andati a via Cannevari che siamo stati da Macron, praticamente a fianco a Macron c'è un parco dove abbiamo giocato a calcio, poi dovevamo cercare di fare una buca con un pallone grosso più o meno di queste dimensioni, ma nessuno di noi ci riusciva e quindi è andata bene e mi sono divertita, ho rivisto Alessio che vi spoilerò che è tornato anche a basket e a calcio appunto, dato che gli ho fatto la sorpresa, se non vi siete visti il blog è andato e vado a rivedere che è quello prima di questo infatti, non mi ricordo qual è, non mi ricordo il numero, poi me lo vado a leggere, allora per oggi è tutto, lasciate like e iscrivetevi al canale se volete unirvi a LhasaFamily e se avete dei pomeriggio di relax come me, o se non ce n'avete, a parte il fatto io adesso vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un nuovissimo blog, ciao!